parte della tre quarti difensiva, attraversa tutto la metà campo e va dall'altra parte a sinistra a scambiare con Lio, Lio palla di ritorno, scivola un attimo, poi in tecchile recupera palla, perché? Rosso espulso su questo tecchile dove ha colpito un atleta, l'arbitro era a pochi passi, è espulso biondo, incredibile, è andato con le gambe un po' lunghe a recuperare palla che gli era schizzata e l'arbitro ha visto un fallo, ha visto un fallo, l'arbitro ha proprio, a che minuto siamo, è espulso biondo? A che minuto siamo? Non ce l'ha fatto, non ce l'ha fatto? Bocciato! Bocciato! Una terno di merda! No, non ce l'ha, non ce l'ha, non ce l'ha Espulso biondo che è ancora incredulo da questa decisione arbitrale Davvero guasta la partita l'arbitro con questa decisione Lo va a rincuorare Fabrizio Maglia Abbiamo avuto già un arbitraggio abbastanza particolare con la Rosa Arnesia